Sono Valentina, lavoro presso il CUP di Borgo Cavalli e oggi siamo qui a discutere perché il clima ormai si è esasperato, esasperato perché sono anni che lavoriamo tutti i giorni, lavoriamo male e ogni giorno ci mettiamo la faccia, facciamo quello che dobbiamo, lo facciamo veramente con il cuore, però adesso basta perché siamo qui a dire che siamo troppe e però ci chiedono di mantenere attivo un servizio con meno persone, non è possibile, non è possibile, non ce la facciamo più, basta, è ora che i numeri vengano fuori e che si faccia chiarezza per noi, per i cittadini, per i servizi che devono comunque andare avanti, essere garantiti per tutti. Grazie a tutti.